Eccoci qui con Carlos Berloca ad Umago. Ciao Carlos. Ciao, ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo e tu? Bene, bene, qui in Umago per giocare l'ATP di quest'anno. Ok, noi ti ricordiamo da Cortina ancora dell'anno scorso, della tua bella giornata che hai passato assieme a noi. Sì, sì, ho tanti ricordi di Cortina, non ho giocato molto bene ma ho sentito come in casa, allora un saluto per tutti Cortina. Ok, ti ringraziamo e tante belle cose anche a te per la tua stagione, sai? Grazie mille, ciao, ciao.